Parole faziose e prive di fondamento, le definisce così l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Sica le considerazioni del consigliere della Lega Mario Vivone, che nella giornata di ieri ha presentato un'interrogazione per sollecitare l'avvio dei lavori in via Padre Gentile per via del rischio allagamenti. Già dal nostro insediamento, afferma Sica, ci siamo attivati per trovare la migliore soluzione tecnica ai problemi sorti in via Padre Gentile. Problemi peraltro ereditati a fronte di una serie di lavori costati milioni di euro. Onde evitare la realizzazione di altre opere inutile ed imprecise, nonché un ulteriore dispendio di risorse economiche, con il sindaco avevamo già previsto un incontro con la ditta appaltatrice ed il condominio coinvolto nella questione, per trovare una risposta a lungo termine e quindi duratura, ma al tempo stesso fruibile dai cittadini.